No One Survive Di questa fantastica serie Link in descrizione anche a Istan Gaming Una piattaforma per coprare giochi a prezzi scontati Ed ecco qua il nostro amico Che non sta facendo una mazza Braystar non sta facendo una mazza Barry qua il nostro sopravvissuto Barry, Barry qua, Barry Non sta facendo niente, niente Chi è, Bunny? No, Barry, Barry Allora, qua mancano le parti delicate Pelle e mattoni Per finire l'alloggio Che è solo l'alloggio dove dormirà Spanik dall'altra parte Mattoni finiti, bravo Spanik dall'altra parte ha costruito il garage Ha costruito, ha messo il progetto del garage Che poi faremo off camera Questo ci serve solo per mettere qua le macchine Tutto di pietra, pietra, legno, un po' di roba Guardate qua il bel garage Triplo garage Che poi si può allungare sia a sinistra che a destra Quindi bravo Spanik, eccetera, eccetera L'alloggio Ci serve più che altro Pelle e il ferro Per poi fare le parti delicate Che serve l'acciaio, eccetera, eccetera Quindi in questa puntata andremo dove vuole la vale E tireremo su anche tutte le cose che ci servono Quindi le pepite Quindi la pelle Se troviamo un animale Dobbiamo far fuori tutto Quindi c'è un bot di roba da fare come sempre Come giustamente Giustamente dimmi Ma te la macchina, il baule dietro, il copano Lo vedi aperto? Sì, anche io prima, però pensavo di essere io Non si chiude È vero È vero Vabbè, lasciamolo così Allora, preparatevi la roba da mangiare, da bere È così che partiamo subito Ho già fatto tutto Basta che prendiate È l'alettone Bravo, guarda Io mangio già una roba qua Tac Ma chi è se consuma tutta la carne grigliata che avevo fatto? L'ho fatta io perché ho fatto le zuppe Che hanno un po' più di... Va bene, va bene, va bene Qua c'è uno di quelle cose che voleva brasterli Con il cavolo qua Il grano lì Che è qua Dovrebbe esserci fatte le parti delicate Eccole qua Sì, sì, l'ho già sbloccato Ci sono tre parti delicate e la pelle Quindi serve ferro Perché poi ci serve per fare l'acciaio E tutto il... E la pelle Bisogna cacciare un animale anche Quindi mentre andiamo Occhi aperti per cacciare l'animale Braster mi raccomando con gli orsi Mi raccomando... Agli orsi facciamoli fuori Facciamoli fuori Cioè, iniziamo in tre Ah sì Ho quattro Io ho sparato Ti vuole un caricatore di pompa per farli fuori Eh vabbè, cosa dobbiamo fare, Braster? Allora Qua iniziamo a far andare sto coso Ok Dobbiamo andare lassù in alto Sarà un lungo viaggio E ci dovremmo fermare a far benzina Perfetto Voi siete già pronti? Io sono già in macchina Ok, e io arrivo Basta Vale Ma dai Ma guardate Sì, sì Dai Vale Corri qua Hai distrutto il furgone Ma dai Vale È già la seconda volta E non si può Non sono dentro Aspetta Vabbè è già rotto Non metterlo a posto La volontà è rotto Il furgone è pieno Sì, mi stanno smontando È per questo che ero entrato Sti cavoli Eh vabbè Eh vabbè Ricambio per alto No Ma a me non lo so A me non lo so Brayston E Ale Guarda un altro Fermalo Fermalo Salici sopra E frena Non frenare Salici sopra E frena 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 Spazio 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 E beh Non sa cosa fare È giusto Non gli abbiamo andato Di far niente Non possiamo fargli Fare niente Per ora Cosa è successo Piano Piano Ragazzi Una alla volta Dai cinghiali Cinghiali No no Mazza Mazza Ma voi siete andati là Ce ne sono qua Altri due Dove sono io Chi è che mi dai una mano qua Dove sono io Sono grossi Ma dove Ma io non ho il coltello poi Ce l'ho io Ce l'ho io Sono qua grossi Ma non li ho ancora sparato Aspetta ci sono C'è anche un lupo Ma non è che Vando via da me E vengono da te Cioè Quando voi ci spariamo Ho tirato giù un alber Uno è morto Vai due Vai vale Però se vedi gli orsi Tu scappa Fermo 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 Stoppa 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 Torna indietro Torna indietro Vai retro Guardate alla sinistra Di Spanik Ecco lì Guarda lì C'è un cinghiale E un lupo Cinghiali E un lupo Cosa è successo La macchina ha fatto L'umore brutto La macchina Vabbè fa niente Perché l'ha messa male C'è un cinghiale impazzito E un lupo Forse si stanno Combattendo Stanno combattendo Sì Ok Io vado sul lupo Oh è morto Via Morto Via Vai Vai vale Vale la macellaia Ormai Ti sta Stando brace Ok Vale la macellaia Cavolo Sì questo è ferro Quello piccolo Quello piccolo Vai aspetta Fammi fare una prova Dai Una prova veloce Questo qua Anche questo è ferro Anche questo è ferro Fammi fare una Due colpi veloce Eeeh là Che c'ho il piccone Qua in acciaio E in un attimo Lo tiro su Guarda che la macchina E' quasi rotta E' quasi rotta E' quasi rotta Fuma No non ti preoccupare Ancora va Ancora Ok Ok Pietra e via Non le tiro su Questo è tutto ferro Questo Questo E allora io lo spacco Ve lo butto per terra Ve lo messi iniziato a sistemarlo Sennò un po' Qua sta succedendo Perché Scane Scane Oh Ok Sì così Li facciamo uscire No Occhio Sulla destra Vieni qua Vieni qua Mirate sulle dentiere Mi raccomando Si può spogliare anche questo Sì Al cane Allora facciamo Prima un giro Ha dato la pelle Facciamo un po' di pulizia Occhio che sulla destra C'è quello che esplode E' stata la pelle Ha dato la pelle Grande Ok 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 Non può funzionare qua Il Parti delicate Vai Un po' di questi qua Che ci servono Gasolio Vai Riempi un attimo La macchina intanto Siete dagli attrezzi Servono Sì Sì La possiamo fare Non mi ricordo come si fanno Però Per cui non prenderle Non prenderle Mi raccomando che mi svuoto No no ok Ma che ne arriva uno lì Spike Un po' di gasolio Vai Eh ma qua c'è un mezzo Uguale al nostro Si potrebbe confondere anche C'è un mezzo uguale al nostro Identico Mi ha sparato Adesso io uso un po' l'arco Perché altrimenti Non funzionano più ste frecce Dov'è? Dov'è? Dunque siamo qui Eccoci qua Ci sono altri? Ah io e Spanik Stiamo facendo pulizia Voi raccogliete? Eh su qua No su qua Apposta anch'io Ah c'è anche tu Eh Va dietro Dietro la colonna Tiè Qua c'è un sv Svd per terra Unizioni Che ci fanno sempre comodo C'è un pezzettino di rame Qua dentro Niente Guardate anche dentro E c'è Gollum Datemi una mano Gollum? E dove? Eh dipende dove sei Eh infatti Da dove eravate voi Occhio che arriva Occhio che arriva Gollum Gollum Aspetta Gollum Vieni qua Vieni qua Gollum Vieni qua Vieni qua Ma ho sparato Ma no non t'ho preso Vieni qua Ma ho Vieni Ma ho sparato Ma no non t'ho preso C'ho la registrazione Guardalo qua Gollum Eccolo qua Generatore lo prendo? Chi? Generatore Sì 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 Che il generatore Ma avete fatto un po' di pulizia Porta dentro il furgone? Sì Io dir di sì Quasi Quasi finito Porti delicate buone C'è da me capire Se qua c'è qualche altra roba Basta che non arriva Amon Che mi spara Non t'ho neanche preso Tra l'altro Ma cos'è che sta a risparare? Oh pannello solare Trovato Eh la macchina è piena eh Eh è per quello che vi ho detto Dobbiamo scaricarla Ma non c'è un kit no? No No Nessun kit Qualcuno ha detto Eh io vi ho detto di prenderlo Allora qui c'è Cos'è SHS Brista? Quello bianco C'è precisione quello bianco Eh qua c'è benzina E non posso prenderla Prendila sta benzina No non posso prenderla Non c'ho spazio C'è mai spazio Brista? È pieno di roba a mangiare Brista Sì aspetta Mo mangio Eh Spanik Sì? Qua dentro è C'è un pottio di roba Io non so dove sei Io in questo momento Sono su un tetto Meglio guarda Oh è pieno di benza qua raga Motore Benzina È pieno di roba Qualcuno Qua c'è un pannello da 300 watt No Pannello Non ho già tirato su Non posso prenderlo Quanti ne tirati su 2 da 200 Un attimo che arrivo Brista Dove sei Anche qua E' quella vicina a Furgona Qui c'è una cappa Al mitra Aspetta ragazzi Buttiamo via tutto quel ferro Che non ci serve Aspettate Buttiamo via anche la carne Butta via tutta la carne La carne si Butta via la carne Ne teniamo magari un po' Vabbè Ma va ma butta Che pesco Faccio prima pescare No la carne Buttala via Che tanto ci vuole un secondo A farla Ecco adesso non corro più Perché sono pieno E qua è pieno di roba Qua Spanik Tira su tutto Andiamo piano pianino Piano pianino Eccolo qua Spanik Ok boom Vai Spanik Scarica Scarica tutto Quindi gli zaini Sono tutti pieni già? Eh bu Non ho ben capito io Sì Uno l'ho riempito A manetta Beh ma guardate magari Sul C'è un pannello solare C'è un pannello solare Che me lo sto portando dietro Perché non c'è più spazio Ecco io sono pieno Eh niente Bisogna andare a scaricare Ragazzi Visto che c'è 70 blocchi Quasi li ho fatti 70 blocchi C'è benzina Voi state qua A guardare E E te torni indietro No due tornano in base Prendono un'altra Ah pensavo te tornassi indietro Perché ho un déjà vu Di questa roba Ho un déjà vu Te torni indietro Sì torno indietro io Non c'è problema Ma guardate lì Pagliagli delle macchine Che ci sono zaini Di solito Eh non li ho trovati Saranno anche Non li ho trovati Sto cercando di mettere Meglio la roba Non è che Faccio spazio per lo zaino Che c'è la Spanik Lì Vedi qua Spanik Sulla destra C'è il furgone Guardalo Prendiamo questo qua Dimmi dove deve andare Spanik A sinistra Ok a sinistra Vai che torniamo indietro Alla grande Sì non corromi Ora Pianino Pianino Sempre dritto Via Vai che torniamo Con un'altra macchina Vai vai E poi ti conviene Distinguire di nuovo I binari Sulla sinistra Poi sulla sinistra Ok Oh O c'è anche la strada Vabbè sì Usa la strada Sì sì Usa la strada Sì Via vai Siamo quasi raga Ci siamo quasi Vai a vedere dove siete Siamo arrivati Siamo arrivati Ah boh allora non vado avanti Aspetta qua Ci siamo ci siamo Ci siamo C'è Pronto Finalmente sono entrati Ehi c'è Staurina Oh eccoci qua Vai Allora ripariamo l'altro mezzo Che bello Chi è che ho fatto da mangiare Io Vai butta giù Ti do altra roba Fammi due costine Vai che Qua carne di cervo Costine Un po' di roba Vai Va butiamo giù gli zaini Via Butta giù tutto Non vorrei che succeda qualcosa E spariscono Carica Carica Bevo dopo Prima si mangia Così come i panini Mangia le bistecche Ormai siamo talmente ricchi Che mangiamo Le bistecche Come se fossero pani Comunque è pieno di roba Qua Veramente Sì sì L'ho capito Sto arrivando Tutta la roba Che cercavamo qua Aiuto Sto volando Sto volando No Ok Adesso è sbagato Panico Vai 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 No Brainstar Fa dai navigatori Occhio Vale Non facciamo il cozzo Una macchina con l'altra Mi raccomando Poi faccio i kit Quando sono in base Occhio 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 Chi è? No I zombie Vai 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 Ma non sparare Deve fare arrivare Tutti i zombie Dai 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 Questo? Eh sì Un attimo Via 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 che ti ho sparato Un po' di benzo Mi serve però Eh Qua arrivo Per i dieci intanto Spero ti basti Non sono nello Dai andiamo Andiamo Ale Va che bella carovana Come ai bei tempi Guarda che bella carovana Spanica adesso Ma la mia fa schifo Va lentissima Come mai Va bene No Teoricamente quella va Più veloce Eh ma E se è buono Si vede che non è tanto riparata No quella è la più lenta Spanica Quella piccola è la più veloce Di tutti No è quella più lenta No no Ma possiamo organizzare la gara adesso eh A sinistra dovevi andare A sinistra A sinistra Eh no ormai Vabbè O torno indietro Che casino Aspetta Che cacchio di casino Dove sta andando Princeton Nuova di qua Sì vai e dili che va bene Vai Sempre dritto Ah che cacchio E ti trovi la casa sulla sinistra Eh sì Ma poi sei andato a destra Non a sinistra Vabbè Facciamoci domande C'è un'altra macchina Eh sì C'è un'altra che possiamo Adesso non esageriamo eh Però Vi dico Se abbiamo tanta benzina Noi che andiamo là Adesso magari ripariamo Nelle prossime puntate Il coso petrolifero anche Così almeno abbiamo tanta benzina Andiamo uno con una macchina Rimpiantuta Vai Vale Chiudo io Chiudo io vai No no Non è per quello Mi siamo bloccato tutto di nuovo Mi siamo bloccato tutto Con sulla macchina No Sì No Ah vale Panico perché l'hai messa qua Stavo facendo le prove Allora mi hai crashato il gioco Stai ferma Non toccare niente Stai immobile Mi pare si è schiantata contro Una roba Ma c'è Ma c'è C'è la macchina a posto Vai puoi far quello che vuoi Vale Ok Le parti delicate dove sono? Non ci sono Non ci sono Come vanno avanti le costruzioni qui Allora vediamo un po' La situazione qua Come siamo messi Con l'acciaio L'acciaio ce l'abbiamo Sto facendo roba di bracer Ma mi serve l'argento Va bene Aspettiamo un attimo che lo faccia Poi andiamo qui E mettiamo anche questo Mettiamo alluminio Ta 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 Parti delicate Ta 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 Ci manca solo l'argento Va bene Ce l'avremo Primo che trova le pelle Le mette a posto E i pannelli solari Anche Vabbè uno qua Stiamo sul pannello solare E qua ce ne ho una Qua ne ho un altro Ok allora bisogna fare la discernita Adesso faccio io Però lasciateli lì Bisogna fare una roba Bisogna fare una cassa Per i pannelli solari Che non usiamo per ora Ah l'ho trovato la pelle Eh vabbè la cassa Pelle sai dove metterla Lì nell'edificio Sì 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 Piaggia lì Abbiamo posto già anche le batterie Le sostituiamo Quelle super belle Questa da 80 via Mettiamo questa Questa da 120 La teniamo Questa da 80 via Mettiamo questa qua Mamma mia Mamma mia Un altro pannellino solare Mi serve il martello Vabbè se qua Qualche parte è il martello Dove cavolo hai messo Ci sono più martelli Vale Vai sono finiti i martelli Ah no Ce n'è uno dai Uno l'ho trovato Quello che è qua Mettiamo queste qua Quattro ora Questa non me la metto qua Tac Andiamo su a fare Una cassetta Proprio di fortuna Per mettere i pannelli solari Guardate qua Braystar sta costruendo L'armeria sta facendo Braystar Metti qualche finestra Braystar No no Se è un'armeria Stavo levando la finestra Giustamente Tavola Andiamo poi a prendere le tavole Parti semplici Da 50 watt In teoria ce ne stanno Vediamo un po' Ce ne dovrebbero stare Tre di pannelli solari Dentro la cassa Ok Io le lascio Allora sostituisci 50 con i 200 Spagna Già fatto Perfetto 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 Alla grande Quindi qua abbiamo Totalmente 50 50 200 300 50 200 200 300 200 Eh alla grande Dobbiamo andare avanti A fare gli altri Che li facciamo Poi Libraystar sta facendo Robo lì Il garage da terminare Cioè Off camera ci sarà Altra roba da fare Quindi Vedi come si fanno le cose Tac E le facciamo Vediamo Come è la situazione Qua macchina Vediamo su un po' Di roba Ho fatto anche il cartello Dentro qua Questo è il progetto Ovviamente Ci sono già le casse Ci sono già un botto di roba E qua si appendono le armi Sostanzialmente Ci servono Un sacco di parti Delicate Che sono quelle che si fanno Con tutti i lingotti Che Sto facendo Stiamo facendo Un po' alla volta Li facciamo Guarda qua quanti lingotti Che abbiamo Ci serve l'argento Ecco Siamo un po' in deficit D'argento adesso Che cavolo Siamo in deficit Di qualcosa siamo Un po' d'argento Ci serve Giusto Quel cicinin D'argento Ok Questo qua Questo qua Questo qua Tre parti delicate Li abbiamo Quante ne servivano Taurus È una sola Una Boh ma allora A posto L'alloggio Diciamo che è fatto No manca la pelle Dove è finita la pelle Che abbiamo tirato su Dov'è la pelle Allora io ne ho trovato Solamente a quattro E no Ne avevamo già sei contate male Ne abbiamo preso anche io E spani Che dove cavolo è finita Sono finite La pelle Ah qua ho trovato Un'altra batteria Aspetta che la tiro su Ci sono i zani pieni di qualsiasi roba Qua ci sono le teste Che adesso mettiamo lì Qua ci sono altre batterie Che adesso mettiamo No non ci sono le pelle Dove sono finite ragazzi Servono dieci mi sembra Due sono qui Ah cavolo Mi serve Aspetta che testa c'ho qua La testa di lupo Dove la metto la testa di lupo Bresta Sopra in armeria Mettiamo la testa di lupo anche No mettiamo qua dai La testa di lupo Gliela metto qua Dove è la testa di lupo La testa di lupo La mettiamo Dentro Bresta La mettiamo Dentro la casa di Bresta Vedi Camentavi che non pioveva mai Tutte le volte che C'esse l'acqua Ah ma in sto gioco Piove sempre È una roba È una roba scandalosa No Le teste Via Recupera la testa di orso Quella sì Allora qua c'è una batteria A 120 La sostituiamo E io vorrei sostituire Un'altra a 120 Però rimaniamo senza energia Adesso Vabbè Eh no 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 Ci serve l'energia Per ora Spazi per lupo Abbiamo troppa roba Amon dove sei? Eh sì sono qua Hai trovato la pelle? Sì E mettila già nell'edificio allora Allora Un attimo che metto Un altro pannello Da 300 Anzi da 200 Peccato Da 300 era più bello Eh sì ma non c'è Ora Dove andare a mettere Quest'altro pannello È già piena la cassa? Ne faccio un'altra Ne faccio un'altra Inizio a mettere lì Adesso ne faccio un'altra Via Corrente andata Adesso si dovrebbero ricaricare Tutte le batterie nuove Tutte industriali Chiare coupé Un attimo Facciamo un'altra cassa Per il pannello solare Il pannello solare Ce l'hai addosso te Spanik? Eh sì sì Vai puoi metterla C'è un'altra cassa qua adesso Oh sì Qua è una torta in vaso Intanto Prima di schiudere la puntata Facciamo un bel saltino qui E andiamo a vedere Qua il PG Che adesso Più bello della nostra La stanza qua Oh C'ha il cesso Con la vasca Lo specchio Il lavandino La doccia C'ha pure lo sturone Per il cesso C'ha il letto Con l'orsacchiotto Tutto c'ha C'ha il puff Il quadro Ma che è? Il divanetto Il quadretti C'è tutto c'ha Comunque adesso Il PG lì Adesso ha la zona letto Il prossimo edificio Che gli facciamo fare Dopo può lavorare Praticamente Vedete Letto 1 Manodopera 1 Cavolo Questo ne tiene 1 Quindi dobbiamo Far più camerate Nel caso Vabbè Vabbè Dopo ci pensiamo Tanto Ce ne servirebbe Solo uno per lavorare Va bene Allora vi dico Che per questa puntata è tutto Andremo avanti nella prossima Mi raccomando Supportate questa serie Con un bel mi piace Un commento e una condivisione Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti Attivate la campanella Pagina di Instagram Facebook Gruppo Telegram Tutti i link sono in descrizione Come anche la playlist Di questa fantastica serie In descrizione trovate anche Instant Gaming Una piattaforma per comprare giochi A prezzi scontati Da Amorus è tutto E anche da Raystar E anche da Panic E anche da Tau Lo sapevo Cassessi mi dicevano Lo sapevo Perché nessuno sapeva Se dirlo prima Vabbè Diamo alle Tauro C'è tutto E ci vediamo al prossimo Tutto video Ciao a tutti Ciao a tutti